Il grossissimo premio che le abbiamo riservato, trattandosi di bacio, lei avrà a disposizione un bacio di Lola Falana. Mi perdoni, Lola Falana che sta girando in film, quando dico che ti amo, dovrà darle un bacio. Vuole il rullo? Il rullo? Prego. No, 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 scusi. No, no, scusi. Lei mi perdoni, bello il tamburo lo lasciamo davanti. Perché, no, se lei è emozionato, se vuole delegare... No, 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 dicevo... Lei faccia i fatti suoi, io faccio i fatti suoi. Sì, no, lei faccia lo spiglio, io faccio l'ospite. No, beh, io in questo momento devo fare anche i fatti della televisione, perché ci vuole un bacio televisivo. Come? Vuole chissarlo. Grazie. No, 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 no. Ecco. 13 novembre 1886... Grazie. 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 Grazie a tutti.